Buongiorno, benvenuti all'appuntamento con l'informazione di Telestense, ancora il maltempo, ancora l'alluvione in Romagna e allarme, bombe inesplose nei terreni agricoli alluvionati dove sono stati già ritrovati ordigni bellici inesplosi fatti emergere dalle inondazioni che quindi se toccati o rimossi in modo improprio potevano innescare situazioni di pericolo. A segnalare questa nuova emergenza la prefettura di Ravenna è stata la codiretti dell'Emilia Romagna, ad oggi sono stati ritrovati già sei ordigni bellici messi in sicurezza dai militari che operano per la bonifica ma a preoccupare è l'incolumità degli agricoltori che con i trattori sono impegnati nella sistemazione dei terreni devastati dall'invasione dell'acqua. Il passaggio dei mezzi agricoli pesanti infatti potrebbe provocare il disinnesco degli ordigni e la loro esplosione. L'invito agli agricoltori è quindi alla massima prudenza ma si chiede anche l'assistenza dei militari, delle forze dell'ordine e della protezione civile per la messa in sicurezza delle aree agricole più interessate dal fronte della seconda guerra mondiale. E l'alluvione in Romagna in quest'ora si continua a lavorare per ripulire le aree ma anche le città e i paesi che sono invasi dal fango. Situazione ancora difficilissima nonostante un clima più mite con il sole di questi giorni. Oggi il Consiglio dei Ministri con già probabilmente il primo pacchetto di aiuti. Martedì il governo affronterà nella seduta del Consiglio dei Ministri la questione legata all'alluvione della Romagna. Il governo studia l'esonero dal lavoro per i dipendenti pubblici che a causa dell'alluvione siano impossibilitati a svolgere la prestazione lavorativa anche ricorrendo allo smart working. Il Consiglio dei Ministri determinerà le prime misure, anche quelle economiche, per le popolazioni colpite, ha spiegato il ministro Francesco Lollovrigida. Intanto scende ancora il numero delle persone che hanno dovuto lasciare la propria casa. Oltre 2.600 sono attualmente ospitate nelle strutture d'accoglienza. La maggior parte sono sfollati nel Ravennate e poi a seguire in provincia di Forlicesene, nel Bolognese, restano 43 comuni romagnoli coinvolti dagli allagamenti e sul versante del disesto idrogeologico risultano attive almeno un migliaio di frane, di cui circa 305 più significative concentrate in 54 comuni. Intanto è confermata anche per martedì l'allerta rossa, ma in un'area inferiore rispetto a lunedì per criticità idraulica su bassa collina, pianura e costa romagnola. Il maltempo ha devastato la produzione agricola da un miliardo e mezzo di euro. Quanto emerge da un monitoraggio delle organizzazioni agricole, tra queste la Coldiretti, oltre mille aziende sono state colpite da frane e smottamenti. 15 milioni le piante da frutta che saranno da estirpare. Per questo la stessa organizzazione agricola ha avviato una raccolta fondi per gli agricoltori alluvionati. L'alluvione ha devastato oltre 5.000 aziende agricole e allevamenti in una delle aree più agricole del paese, con una produzione lorda vendibile della Romagna pari a circa un miliardo e mezzo di euro all'anno, che si moltiplica lungo la filiera grazie a un indotto di avanguardia, privato e cooperativo, nella trasformazione e distribuzione alimentare che è stato fortemente compromesso. È quanto emerge dal primo monitoraggio della Coldiretti Emilia-Romagna sugli effetti del maltempo, dal quale emerge che ai danni sulla produzione agricola si aggiungono quelli alle strutture come gli impianti dei frutteti, le serre, gli edifici rurali, le stalle, i macchinari e le attrezzature perse, senza contare la necessità di bonificare i terreni e ripristinare la viabilità nelle aree rurali. Sono oltre 1.000 le aziende agricole che rischiano di scomparire con i terreni segnati da frane e smottamenti, ma a preoccupare, sottolinea Coldiretti, sono anche i danni alle infrastrutture, con strade interrotte e ponti abbattuti, con difficoltà a garantire acqua e cibo agli animali isolati per le interruzioni del sistema viario. L'alluvione ha invaso i campi con la perdita di almeno 400 milioni di chili di grano nei terreni allagati dell'Emilia-Romagna, dove si ottiene circa un terzo del grano tenero nazionale in un contesto internazionale particolarmente difficile, ma l'esondazione ha sommerso, continua Coldiretti e anche i frutteti, soffocando le radici degli alberi fino a farle marcire, con la necessità di espiantare e poi reimpiantare almeno 15 milioni di piante tra pesche, nettarine, chiwi, albicocche, pere, susine, mele, cacchi e ciliegi. Preoccupante è anche la situazione per 250 mila bovini, maiali, pecore e capre allevati nelle stalle della Romagna alluvionata, dove si contano anche circa 400 allevamenti avicoli, tra polli, galline da uova e tacchini, dove, secondo Coldiretti regionale, si evidenziano purtroppo diverse situazioni di criticità con migliaia di animali morti e affogati. Nelle aree colpite, secondo Coldiretti Emilia-Romagna, sono a rischio nell'intera filiera almeno 50 mila posti di lavoro, tra agricoltori e lavoratori dipendenti nelle campagne, nelle industrie e nelle cooperative di lavorazione e trasformazione. Coldiretti ha deciso così di avviare una campagna specifica ad hoc, una campagna di solidarietà, chiamata Salviamo le nostre campagne, grazie alla quale sarà possibile sostenere le aziende agricole della Romagna colpite con un versamento ad hoc, intestato alla Federazione regionale Coldiretti Emilia-Romagna, con causale alluvione Emilia-Romagna 2023. E si è parlato di territorio durante un seminario intitolato Ridisegnare volano, costruire scenari, proporre azioni, un seminario promosso dall'Associazione Volano Borgo Antico, che si è tenuto nei giorni scorsi a Cannevie a Codigoro, più consapevolezza nei comportamenti, scelte da fare per il futuro, anche per gli stabilimenti balneari dei Lidi e il lavoro della messa in sicurezza del territorio. Fra i relatori anche l'architetto urbanista Romeo Farinella, che ha precisato come al momento non ci siano già soluzioni, ma che andranno cercate, guardando anche al di fuori del nostro paese. Sentiamo allora l'intervento del professor Farinella in merito al volano e al suo futuro. A volano è successo quello che sta succedendo in molte parti d'Italia, che una serie di fenomeni che sono legati ai cambiamenti climatici, a un'eccessiva urbanizzazione della costa, a problemi legati comunque a un irrigidimento anche delle nostre coste e dei nostri fiumi, sta generando delle trasformazioni che vanno gestite con una prospettiva di lunga durata e con un approccio interdisciplinare, non solamente settoriale. Noi come università stiamo lavorando da tempo su questo, in particolare sono un architetto urbanista, ma sto lavorando insieme a colleghi idrogeologi, geomorfologi, ingegneri, economisti, per elaborare delle visioni di scenario partendo da esperienze che altri paesi europei stanno già facendo sulla riprogettazione delle coste adottando approcci nature based solution, ovvero delle soluzioni basate sulla natura, quindi sul riuso di elementi naturali e così via. Noi non abbiamo soluzioni, stiamo sperimentando delle approcci e delle soluzioni e questo in confronto anche con il territorio è importante per capire, per comunicare il fatto comunque che c'è un laboratorio di ricerca, un gruppo di ricerca che sta lavorando su queste cose e non si può prescindere da un rapporto con il territorio. Cambiamo argomento, donare sangue significa donare la vita, Ferrara segna una buona raccolta anche di nuovi soci e di nuove donazioni, sentiamo Andrea Tieghi di Avis Comunale Ferrara ricordando che tra qualche settimana, il 14 giugno, si celebra la giornata mondiale del donatore di sangue. I dati dell'Avis di Ferrara fanno ben sperare, gli eventi servono naturalmente per avvicinare molte più persone all'associazione e poi anche i dati sono positivi se rapportati a livello regionale, è così? Esattamente, abbiamo una situazione di netto miglioramento rispetto al 2022 perché stiamo crescendo del 5% rispetto ai dati dell'anno scorso dal punto di vista della raccolta del sangue intero. C'è un calo purtroppo del plasma anche a livello nazionale perché avendo riaperto i reparti ospedalieri per fare gli interventi dopo la pandemia servivano molti globuli russi nei reparti per cui i donatori di plasma molte volte sono stati dirottati a donare sangue intero. Ma stiamo recuperando anche sul plasma per cui io credo che nell'arco dell'anno 2023 torneremo al pareggio. Ecco per avvicinarsi all'Avis ricordiamo cosa serve? Serve essere in buona salute, pesare più di 50 kg, essere maggiorenni, serve una buona disponibilità e venire a fare una visita, fare un prelievo di sangue. Se tutto è a posto non si dona subito ma in Emilia Romagna ma se tutto è a posto dopo 20, 30, 40 giorni si viene chiamati per fare la prima donazione e questo è una cosa molto semplice, tutti possono farlo, tutti possono provare. Ecco ricordiamo perché è importante donare anche sangue intero e plasma feresi. È importante donare sangue intero perché questo aiuta moltissimi malati, pensiamo solamente ai più di 200 talassemici che curiamo qui a Ferrara, non solo di Ferrara ma anche delle altre regioni d'Italia, se non facessero periodicamente trasfusione di globuli russi non riuscirebbero a vivere. È importante donare plasma perché dal plasma si ricavano farmaci salvavita, plasma derivate appunto che vengono altrimenti importati dalle nazioni ricche tipo gli Stati Uniti dove vengono fatti donare persone dietro pagamento e quindi non è un dono etico. Lunedì mattina nella caserma Bruno Bolognesi, sede del comando provinciale della Guardia di Finanza di Ferrara, si è svolta la cerimonia per il giuramento di fedeltà alla Repubblica Italiana di sei militari provenienti dai corsi di formazione davanti al comandante provinciale Cosimo Delia, due neomarescialli, tre neosovrintendenti e un neofinanziere in forza al nucleo di pulizia economico-finanziaria di Ferrara, al gruppo di Ferrara e alla tenenza di Comacchio. Potenziare la formazione universitaria che sia caratterizzata da una forte impronta tecnico-specialistica, questo è l'obiettivo del recente investimento regionale che riguarda anche un corso dell'Università di Ferrara. Il fondo mira a reclutare 15 ricercatori che saranno coinvolti per rafforzare e qualificare l'offerta dei 12 corsi di laurea triennale a orientamento professionale dell'anno accademico 2023-2024 di cui tra di nuova attivazione uno di questi è Ferrarese, come dicevamo, ma sentiamo l'assessore regionale Salomoni. Va a finanziare 15 posizioni da ricercatore junior nelle sedi delle lauree professionalizzanti, quindi da un lato è un investimento in ricerca perché sono 15 posizioni da ricercatori, ricerca industriale, ma dall'altro sostiene anche questo tipo di formazione che per noi è molto rilevante anche nell'ottica nel tempo di riuscire ad aumentare il numero di studenti che si laureano in Emilia Romagna, quindi sono per noi un pilastro le lauree professionalizzanti da molti punti di vista. La laurea professionalizzante prevede proprio una fortissima interazione con il sistema delle imprese al punto che è anche quello dei professionistici, tengo a dirlo, perché in alcuni ambiti come quelli del territorio si lavora per esempio con i geometri o con gli architetti, quindi lavora proprio col territorio nel suo sistema di produzione, in tutte le sue articolazioni. Gli studenti fanno lunghi tirocini che quindi devono essere ben articolati in un processo che è un processo formativo e la stessa ricerca che viene svolta è una ricerca di tipo industriale con una ricaduta immediata sul sistema delle imprese e quindi per noi è rilevante anche da questo punto di vista. Il comitato organizzatore dell'ente Paglio della città di Ferrara cambia il mossiere delle gare che si terranno sabato sera in piazza Riostea. Il mossiere per questa prima edizione notturna sarà il senese Andrea Calamassi scelto da una rosa di tre possibili candidati, dallo stesso presidente del Paglio Nicola Borsetti e sentito naturalmente anche il parere delle otto contrade. Calamassi è cresciuto con il Paglio di Siena ed è stato nominato mossiere del protocollo equino del Paglio di Siena proprio per questa edizione 2023. Sarà a Ferrara già in piazza Riostea a conoscere la propria postazione mercoledì 24 maggio per la prima prova notturna dei cavalli e ricordiamo naturalmente che Telestense come di consueto sabato sera seguirà la diretta del Paglio per trasmettere le attesissime gare di piazza Riostea, quelle dei putti, delle putte, degli asini e naturalmente che quelle dei cavalli. Eventi a Ferrara lo scorso, fine settimana in centro si è riempito di ceramisti con ceramica in festa, laboratori, dimostrazioni, lezioni in piazza per valorizzare la tradizione ferrarese della ceramica. La festa della ceramica nel fine settimana sul listone di piazza Trento Trieste ha visto sabato una pioggia leggera ma poi domenica le condizioni sono migliorate e sono tante le persone che sono state attirate da questa iniziativa. La seconda edizione della manifestazione è pensata da CNA Ceramica a Ferrara per celebrare la tradizione storica che il territorio estense può vantare in questo campo e anche valorizzare l'attività dei ceramisti. Un'occasione per vedere all'opera i maestri ferraresi e avvicinarsi alle tecniche di produzione della ceramica attraverso dimostrazioni dal vivo, laboratori e vere e proprie lezioni. Ne due giorni di festa, più di 80 le prenotazioni ai laboratori di tecnica ceramica rivolti ad adulti e bambini. Gli studenti della quarta A del Liceo Artistico d'Ossodossi, guidati dalla professoressa Silvia Pagoni, hanno illustrato la propria esperienza nell'ambito del progetto della tradizione ceramica ferrarese nato dalla collaborazione tra la loro scuola e CNA Ceramica Ferrara. Le dimostrazioni di tecnica graffita erano affidate a Franco Mazza, artigiano specialista di questa antica tecnica rinascimentale, con l'accensione del forno, la dimostrazione di tecnica Raku, antica arte ceramica giapponese. Sabato pomeriggio poi la banda filarmonica di Kona ha accompagnato con le proprie esecuzioni musicali il lavoro degli artigiani e l'esperienza dei laboratori, con una dedica alle popolazioni alluvionate attraverso l'esecuzione del brano Romagna Mia. Il presidente di CNA Ceramica Ferrara, Riccardo Biavati, ha voluto manifestare solidarietà a nome dei ceramisti ferraresi verso i colleghi di Faenza, vittime dell'alluvione, che negli ultimi giorni ha tragicamente colpito la Romagna. Ora parliamo di lunedì sport, ieri sera si è chiusa, c'è stata l'ultima puntata per la stagione 2022-2023, SPAL retrocessa in serie C, ieri sera il triste bilancio da parte degli ospiti, presenze fisse della trasmissione condotta da Alessandro Sovrani che ha ottenuto anche ieri sera un record di ascolti. Sentiamo. La stagione è che tutti ritenevamo che la squadra fosse una squadra che potesse tentare di giocarsi l'accesso ai play-off, ecco questa era un pochino più o meno, credo, l'idea di tutti quanti. È stata una squadra, l'avevamo detto fin dall'inizio, costruita proprio sulla volontà di Venturato, con i giocatori adatti al suo gioco e quindi in partenza nessuno poteva certo prevedere questo disastro. Poi dire se si poteva salvare io penso di sì, o perlomeno arrivare play-out, perché le concorrenti con le quali abbiamo avuto a che fare nella parte bassa della classifica ritengo che non siano più forti della squadra, però dopo intervengono altri fattori, altre situazioni che sono intervenute e hanno portato a questo fallimento. Mauro? Sì, sono d'accordo con Riccardo, io penso che noi eravamo tutti abbastanza contenti del mercato estivo, c'era interrogativo sui due centri avanti, se fosse possibile farli coesistere, o se servisse una punta veloce, c'era un evidente già allora dislivello tra quei 13-14 giocatori principali e la panchina, bisognava capire Vernier cosa poteva dare in termini fisici, però ministerialmente eravamo tutti abbastanza convinti che la squadra potesse fare un campionato quanto meno tranquillo e magari con un po' di fortuna, anche penso io, si poteva provare ad avere la vista sull'ultimo posto dei play-off, che poi abbiamo visto che fino alla 14esima, praticamente l'ultima giornata erano ancora in ballo tutti, persino il Modena era in ballo, quindi devo dire che le aspettative erano altre e sono d'accordo anche io sul fatto che poi sono stati fatti troppi errori in corso d'opera, invece di andare a correggere nei suoi punti deboli questa squadra, le è stata tolta un'identità che alla fine ha avuto probabilmente solo in maniera abbozzata e embrionale nelle prime partite di Venturato, poi ne ha avuto anche con De Rossi, però quella era un'identità che a me non convinceva per la Serie B, era un gioco rimasticato che frutta poco, lo puoi fare probabilmente con giocatori più importanti a livello di Serie A, la Serie B quel gioco corto lì non ha vita. Eravamo seduti qua dopo sei giornate, io di solito mi esprimo all'ottava, tu lo sa, e avevo già detto che per i risultati che avevo tenuto e per il gioco che stava facendo con Venturato non c'era da preoccuparsi minimamente perché la squadra aveva una propria identità, giocava sempre per vincere, sempre per andare dall'altra parte per andare ad attaccare l'area avversaria, però anch'io ho dato fiducia a Venturato perché dice se ha voluto Moncini nonostante la mantia, invece poi dopo in corso d'opera è chiaro che si poteva far meglio, fare un mercato decente, facendo un mercato decente a gennaio io penso che si potesse fare molto meglio, ma di salvarsi. Ricordiamo che l'intera puntata di Lunedì Sport si potrà, è disponibile sul nostro canale YouTube, quindi canale YouTube di Telestense. Chiudiamo qua il nostro TV giornale, grazie di essere stati con noi, arrivederci. Grazie. Grazie. Grazie.